Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo un po' di Dragon's Dogma 2, gioco che ancora non ho trattato tantissimo ma arriveranno contenuti anche perché sicuramente lo giocherò dal day one e quindi dal 22 marzo uscirà in multipiattaforma sulle console di generazione attuale e anche su pc. Ma nel video di oggi vorrei parlare di un argomento molto specifico riguardo Dragon's Dogma 2, quindi non andremo a vedere di cosa parla il gioco, perché lo voglio giocare, cosa di particolare, quello arriverà fra qualche giorno un video così. Oggi ci focalizziamo sulla genialata di Capcom che ha sviato tantissimo l'attenzione di molti che si stava focalizzando un po' sui problemi di framerate, soprattutto su console, non so se lo sapete ma il gioco sembra decisamente bello, molte anteprime ne parlano molto bene però sembra avere qualche problema diciamo di ottimizzazione. Framerate ballerino intorno ai 30, non perfettamente stabile, quindi c'era un po' di preoccupazione ma a un certo punto Capcom ha deciso vi facciamo una demo, ma non una demo che giocate il gioco, una demo che fate solo la creazione del personaggio. Sulle prime magari molti erano delusi ma poi è esploso internet perché questa creazione del personaggio di Dragos Dogma 2 è fuori di testa, infatti è super super accurata, forse una delle migliori mai fatte e diciamo che appunto internet è esploso e tutti sono messi a fare qualsiasi tipo di personaggio possibile immaginabile proprio perché è così accurata e quindi su Reddit spuntano mille milioni di creazioni, gente che fa Gandalf, gente che fa Shadowheart, gente che si fa se stessa in maniera super super precisa, gente che fa Gatsu eccetera eccetera, insomma qua chi è? Liv Tyler, Arwen, ma ce ne sono veramente una quantità infinita, se volete vedere questo Geralt basta andare sul Reddit proprio di Dragos Dogma 2 ma in generale vedrete che c'è tantissima roba, Daenerys, Game of Thrones, Cammy, Street Fighter eccetera eccetera, insomma veramente impressionante, e anche io chiaramente ho scaricato la demo, sono circa 5-6 giga su PC perché lo giocherò comunque su PC, ho smanettato un pochettino, anche se io non sono un super amante dei creatori di personaggi, nel senso non ci sto volentieri tantissimo tempo, però in questo caso specifico, dato che appunto esce tipo 10 giorni prima dell'uscita del gioco, magari posso perderci un pochino più di tempo, anche perché chiaramente tutto quello che voi creerete poi lo potrete ovviamente usare una volta che il gioco sarà uscito in release, e potete creare sia il vostro Arisen, quindi il vostro personaggio principale, ma anche mi sembra 5 o 6 delle vostre pedine principali, tutto il sistema delle pedine che sono fondamentalmente i companion, poi magari lo approfondiremo meglio in un altro video, perché è uno dei comunque pezzi forti di questo Dragos Dogma 2, ci sono due o tre caratteristiche molto interessanti di questo Action RPG, però una delle forse più interessanti è proprio la questione delle pedine e come viene gestita l'intelligenza artificiale, e anche il fatto che voi potete utilizzare le pedine dei vostri amici poi inserendole nel party. Ma come detto in questo video volevo soffermarmi su questa super idea molto furba di Capcom, che ultimamente negli ultimi buon 5-8 anni direi ha sbagliato ben pochi giochi, con questo appunto l'idea di far uscire questo character creation estremamente dettagliato e molto ben fatto, ha veramente fatto esaltare tutti e ha fatto anche, guardate Jennifer, Jennifer, ha fatto anche schizzare le vendite del gioco, perché vi faccio vedere qui su Steam come è balzato in seconda posizione, come vedete modifica 57 posizioni, non era molto considerato fino a circa una settimana fa questo videogioco, per quanto per molti sia uno dei più attesi dell'anno, ma appena letteralmente è uscita questa demo del creazione personaggio, esattamente il giorno dopo è schizzato in seconda posizione tra i più venduti su Steam. Palesemente, unicamente per questo motivo, perché tutti hanno cominciato a condividere immagini, hanno fatto vedere quanto era figo, si è alzato immediatamente l'hype e evidentemente molti l'hanno preordinato. Quindi molto brava Capcom a livello di marketing, perché appunto ha sviato un po' l'attenzione da questa questione di 30 fps e ha fatto alzare in maniera incredibile l'hype a 10 giorni all'uscita del gioco. Comunque l'ho provato anch'io un pochettino, ho smanettato qualche minuto e effettivamente è estremamente potente, estremamente raffinato come creazione del personaggio. Quindi posso immaginare come molti che sono magari patiti di queste cose, in cui ci perdono 1, 2, 3 ore o anche di più, chi lo sa, saranno lì veramente a divertirsi e a programmarsi tutto prima ancora di cominciare effettivamente a giocare al gioco. Detto questo ragazzi, io in realtà finisco quel video proprio perché poi ne voglio fare un altro a parte, magari poi andiamo a discutere in maniera un pochino più profonda su caratteristiche del gioco, aspettative e anche un po' dubbi, volendo. Quindi rimandiamo la discussione fra qualche giorno, detto ciò però fatemi sapere cosa ne pensate. Siete interessati a Dragon's Dogma 2? Pensate di prenderlo all'inizio oppure più in là o aspettate magari le recensioni? Oppure siete già lì dentro nella demo a crearvi i nostri personaggi più bizzarri oppure più simili a voi? Non lo so ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti e ne discutiamo. Noi comunque ci becchiamo prossimamente per altri video, qua sempre sul gaming. Io vi ringrazio sempre per l'attenzione, voi statemi sempre bene e noi ci becchiamo alla prossima. Salutoni e ciao ciao!